il leghista non funziona e crea lavoro nero meglio i voucher m5 spd e leo per lo stipendio minimo che confindustria boccia saranno le amministrative in arrivo ma si respira una certa aria da campagna elettorale se da un lato matteo salvini armato di voucher va all'attacco del reddito di cittadinanza approvato ab torto collo nel 2019 durante il governo conte di cui faceva parte anche la lega la sinistra insiste sa l'introduzione del salario minimo punto c'è da dire che il fatto che salvini abbia ripreso a picconare il reddito esclude dagli scenari economici un riavvicinamento tra lega e m5s anche perché gli ultimi provvedimenti del governo draghi proprio su richiesta dei 5 stelle hanno esteso il bonus da 200 euro anche alla platea di chi già percepisce il reddito di cittadinanza misura contestata oltre che dal centrodestra dal presidente di confindustria antonio bonomi manovra populista noi vogliamo assumere non licenziare entrambi i provvedimenti reddito e salario minimo sono a dire poco controversi ogni giorno arrivano notizie sulla cattiva applicazione del reddito tra truffe scoperte da polizia carabinieri guardia di finanza ieri 23 denunciati dalla gdf a ferrara o addirittura segni attribuiti a boss affiliati e parenti di mafiosi otto le persone a giudizio ad aggrigento sulla necessità di rivedere il reddito e creare un sistema di controlli efficace il consenso è ormai trasversale e ha raggiunto anche i 5 stelle ma nel centrodestra l'intenzione è piuttosto quella di trasformarlo in altro ad esempio nei voucher dei quali ha parlato salvini con il premier mario draghi o in altre misure che privilegino il lavoro sui sussidi